Fu un'ondata di pioggia, vento e maltempo d'inizio ottobre ad aggravare una situazione già precaria da anni. Piastrelle e pannelli pericolanti bardarono di transenne tutta la parete esterna del Tribunale di Pesaro, cantierizzando via San Decenzio e chiudendola al traffico per settimane, mandando in affanno la circolazione in questo snodo fra centro mare e area San Decenzio che conduce ai quartieri di Pantano e Montegranaro. Tre mesi dopo, cos'è cambiato? E' cambiato che è stata riaperta parzialmente via San Decenzio in un unico senso di marcia grazie ad un intervento del comune di Pesaro laddove c'era la possibilità di competenza dell'amministrazione. La manutenzione straordinaria sul palazzo del Tribunale invece compete al Ministero della Giustizia e l'impegno preso settimane fa con i tecnici ministeriali giunti a Pesaro era quello di partire subito dopo Natale con un radicale intervento riqualificativo che gode già di uno stanziamento di mezzo milione di euro. Ma siamo arrivati a metà gennaio e i lavori non solo non sono partiti ma rischiano di non farlo nemmeno nei prossimi tre mesi. A bloccare il tutto l'accordo con la ditta romana incaricata dei lavori che ha giustificato la non partenza con l'introvabilità dei ponteggi adeguati al progetto. Dunque Tribunale Transennato via parzialmente chiusa da tre mesi e almeno altri tre mesi per vedere forse l'inizio dei lavori. Una situazione assurda su un palazzo che ha 16 anni di vita ed è già un colabrodo da anni. Ricordiamo che i problemi strutturali costringono ad esempio a tenere chiuse tutte le finestre del Tribunale per pericolo caduta. Una situazione stucchevole non solo per chi lavora al Tribunale ma anche per chi risiede e transita in questa zona perché è chiaro che la circolazione ridotta doveva essere un rattoppo e invece rischia di diventare la normalità per molti mesi a venire.